Una barca a vela con a bordo un centinaio di immigrati è stata intercettata questa mattina dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica, a largo di Stignano. La barca a vela è la lunga 12 metri e aveva il carico a bordo. Si tratta di migranti di varie nazionalità e di varie etnie. La barca a vela era stata segnalata al numero di emergenza 112 ai carabinieri nelle adiacenze della spiaggia di Stignano. Dopo la segnalazione, l'intervento a terra degli uomini dell'arma è l'avviso automatico alla Guardia Costiera che è intervenuta prontamente con la motovedetta 326 distanza al porto delle Grazie di Roccella Ionica. Una volta arrivata su posto, la motovedetta è riuscita ad abbordare e a trasportare nel luogo vicino più sicuro, ovvero il porto delle Grazie, la barca con l'incarico umano. A bordo ci sono anche bambini di tenere età, ma si tratta comunque di tutti uomini. Dopo le rituali, procedure di identificazione da parte degli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Siderno, i migrati sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza di Roccella Ionica, dove sono stati effettuati i tamponi e dove dovrebbero permanere per oltre 48 ore. Ovviamente non si conoscono le condizioni e né la provenienza esatta, ma di certo la situazione emergenziale non è più un evento occasionale, ma ormai si sta parlando di uno sbarco a giorno che fa diventare Roccella Ionica il secondo luogo d'approdo d'Italia dopo Lampedusa.